terribile tragedie in india dove 14 persone sono morte dopo un tragico incidente avvenuto in un deposito di patate a sambal nella parte settentrionale della nazione secondo quanto scrive fanpage.it il tetto dell'edificio è crollato per via del peso dei tuberi e decine di persone sono rimaste seppellite sotto le patate immediati soccorsi che hanno scavato tra macerie e patate alla ricerca dei dispersi secondo fonti ufficiali al momento i morti sono 14 con altre 10 persone ferite di cui 4 gravi